E' facile creare bellissimi fotolibri su Snapfish. Bastano 5 semplici passaggi. Fase 1. Scegli alcune tra le tue foto preferite. Puoi scegliere foto già presenti nel tuo account Snapfish o caricare altre foto dal tuo computer o dagli account Facebook e Flickr. Fase 2. Scegli il fotolibro che desideri creare. Abbiamo un'ampia scelta di formati e copertine. Dai pratici formati 10x15 con apertura completa delle pagine ai nostri best seller 20x30 con copertina personalizzata. Fase 3. Scegli il tema del tuo fotolibro. Un'ampia varietà di scelta tra bellissimi temi e decorazioni che potrai modificare secondo i tuoi gusti anche all'interno dello stesso album. Fase 4. E' la parte più divertente. Personalizza il tuo fotolibro. Se hai poco tempo, puoi servirti del nostro pratico sistema di riempimento automatico, che inserirà automaticamente nel fotolibro le foto che hai selezionato. Oppure puoi personalizzare e completare il fotolibro come preferisci. Potrai scegliere tra layout di pagina preimpostati oppure posizionare le tue foto dove preferisci. Grazie ai nostri strumenti, la tua fantasia non avrà limiti. Puoi posizionare, ridimensionare e ruotare qualsiasi elemento all'interno della pagina. Scegli l'icona di testo, il carattere e i colori per aggiungere didascalie, commenti o date importanti. Abbiamo anche tantissimi elementi decorativi. Dai nuova vita al tuo fotolibro con tante bellissime clip art. Fase 5. Controlla il tuo fotolibro. Clicca Controlla il tuo fotolibro prima di mandarlo in stampa. Creare un fotolibro unico e divertente non è mai stato così facile. Mincea ora su snapfish.it